Luca Zaia, presidente della regione, chiede attenzione per lo stato allarmante della siccità in Veneto. Le previsioni per i prossimi giorni indicano stabilità, per questo si fa appello ad un uso responsabile della risorsa idrica. Per ora non ci sono sintomi per l'inversione della tendenza. A fornire il quadro sullo stato attuale sono i numeri. Siamo in disgelo anticipato di tre mesi, lo stato in cui inversiamo oggi dovrebbe verificarsi a fine estate. Si arriverà quindi a una riserva idrica glaciale in difficoltà. Siamo in bollino ultra rosso. Zaia ha poi spiegato che ci sono zone con dispersione d'acqua che arrivano anche al 70-80% e che richiedono interventi. Ci sono sperimentazioni nel Trevigiano dove si abbinano 3.000 metri quadri di pannelli per far funzionare le pompe che irrigano goccia a goccia direttamente le radici delle piante. L'investimento che si aggira sui 500 milioni è fondamentale per giocare le carte in questa difficile partita. Grazie. Grazie. Grazie.